Adriano da Sotti, Cyprus, throw down, categoria scale The World 2 CrossFit Civita Nova Marbell, 20 kg va bene, non è chili plurale 10, guarda bene, ecco, un mezzo è uguale da per forza un altro tempo la scena va bene ok, guarda, lo penso sopra sarà, cominciamo a 10 cm in alto, sarà più 10 cm in alto, ok? quando ti vesti? tre e due aspettate un momento probabilmente non ti vesti non capisci quando ti vesti Ali? 3,30 m è in alto, quindi è 3,20 m, ok? si piatto qua Anna? fatti, fai il bollo ok, fai il bollo ok, il bollo ok, va bene questa è vicino ok, va bene questo è vicino ma dovremmo la livella questo è giusto questo è giusto c'è troppo zero, zero vai Ale pronto? vai 10 secondi vai grassotti mai i 3 v via Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.